Potrà accogliere oltre 500 bambini, avrà una palestra di mille metri quadrati, aule didattiche, una mensa ed una particolare attenzione all'ambiente con un bassissimo impatto energetico. Inoltre aule verdi con un ottimale rapporto esterno-interno e si estenderà su una superficie di 16.500 metri con un costo complessivo d'opera di oltre 7 milioni e mezzo di euro. E' la scuola di Carara Cucurano, una scuola modernissima e attesissima che ospiterà elementari e materna. Le elementari avranno 10 aule a disposizione con una capienza che va dai 28 ai 30 alunni, aule destinate ai laboratori di scienza, fisica e didattica, mentre per la materna verranno realizzate 6 aule e la mensa potrà ospitare anche 180 alunni. La prima ad essere realizzata da qui all'estate sarà la scuola elementare e la palestra, una volta che dalla Regione Marche i verificatori del provveditorato per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture daranno la validazione al progetto esecutivo. Dopodiché le ditte Italservice EBS di Fano inizieranno i lavori, posa della prima pietra entro l'estate, tempi tecnici permettendo. Sì, ancora una volta quello che noi dichiariamo e annunciamo facciamo, ma non solo una scuola, ne faremo due di scuole, la scuola elementare più la scuola materna, più la palestra, più la cucina, quindi un centro scolastico molto importante. E' chiaro che quando ci sono operazioni complesse come queste richiedono anche una tempistica progettuale e amministrativa, ma vorrei ricordare che l'opera di un'amministrazione si vede quando appalta un'opera e noi l'abbiamo già appaltata da un anno circa. Ma sulla strada della realizzazione prima c'è un altro passaggio chiave, ovvero la bonifica bellica sistematica dell'area, del costo di 80.000 euro, che verrà eseguito da una ditta specializzata accreditata al Ministero, la CCM di Caserta. Per onor di cronaca, ci specifica l'architetto Giangolini, il referente del progetto, va detto che la bonifica sistematica era stata programmata anche precedentemente, il ritrovamento della famosa bomba d'aereo della Sassonia. Quindi un lavoro complicato, per cui ringrazio i tecnici, i progettisti, il responsabile del procedimento e adesso siamo pronti a partire, a dare a questa parte di città un po' lo scolastico moderno e quindi daremo una prospettiva a un quartiere che non solo avrà una nuova scuola, ma anche spazi liberi per la cittadinanza, perché abbiamo pensato questa infrastruttura anche disponibile al pomeriggio. Ad esempio la palestra che sarà di circa 1000 metri quadri, sarà una palestra di quartiere in uso alla scuola magari al mattino e al pomeriggio sarà disponibile per incontri e riunioni, ma anche per l'attività dei bambini fuori dalla scuola.